buongiorno sono silvia bonacchi e sono diabetica di tipo privo da 40 anni volevo ringraziare gli infermieri perché per me il diabete è stato un percorso un percorso anche difficile in tanti momenti e gli infermieri sono stati sempre gli angeli che mi hanno sostenuto e che mi hanno guidato anche nei momenti più difficili quando questo percorso era difficile e ci sono sempre stati quindi grazie 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 sono maria calabrese sono direttore della diabetologia di prato dell'aslo toscana centro ringrazio molto tutti gli infermieri che lavorano presso le diabetologie per gestire le criticità dei vostri pazienti e condividere con gli operatori sanitari il percorso